Un periodo difficile per l'omeopatia? Diciamo che in relazione all'episodio che è venuto fuori il caso di Pesaro del bambino trattato con l'omeopatia per un'otite bilaterale, chiaramente c'è da fare subito una grossa distinzione. La medicina è una, c'è lo strumento e il metodo, in questo caso lo strumento che è la medicina omeopatica consolidata da più di due secoli di storia, che riconosce i nazioni come la Svizzera, la Germania, la Francia stessa, ma il Brasile, nazioni che condividono percorso omeopatici convenzionati con lo Stato da tantissimi anni. Di una medicina che io pratico da vent'anni e che comunque ha una sua serietà di applicazione, di disciplina e di studio, motivo per cui, passando al metodo, probabilmente in questo caso è stato sbagliato il metodo, cioè andare a condannare una risorsa che è quella omeopatica solo perché si è visto in questa situazione un errore, e gli errori vengono fatti anche dalla medicina ufficiale, quindi è bene che vengano alla luce perché poi questo porta a far emergere due problematiche. Da un lato il bisogno, il bisogno di tante persone, ora arrivo da Milano, io ho quattro studi in Italia, e il bisogno di tanta gente che si cura con le medicine alternative ormai da tanti anni, perché probabilmente si avvicina a un modello di medicina che invece di curare si prende cura, dall'altro probabilmente una superficialità di approccio che appartiene al modello medico in generale, che comunque in questo caso ha provocato un danno a un piccolino, quando probabilmente con un metodo differente, che io applico fondamentalmente a noi, quando abbiamo fatto le scuole di omeopatia ci ha insegnato che l'omeopatia serve soprattutto alla cura dei disturbi cronici, cioè l'omeopatia aiuta soprattutto i sistemi di regolazione, è una medicina complessa che vede l'essere umano come sistema complesso, e quindi agisce soprattutto nell'attenuare e nel migliorare le reattività disturbate in corso di patologie croniche o di situazioni morbose, non definite, non sono logicamente dalla medicina ufficiale, perché molti pazienti che si rivolgono da me, sono pazienti che non riescono a trovare soluzioni nell'altra medicina. Quindi va sempre coordinata medicina tradizionale a omeopatia? La medicina è una. Quindi se il medico, diceva Ippocrate, che il medico si avvicina alla natura nell'applicazione dei suoi concetti medici, quindi fondamentalmente se un medico si appropria di una conoscenza, come ho fatto io più di vent'anni fa, che amplifica la possibilità di cura verso il suo paziente, la sapienza, la saggezza di quel medico deve essere quella di saper usare questi strumenti. Ecco perché questo collega probabilmente, perché la storia poi è di un bambino che soffriva già di tanti otiti, e che quindi si era rivolto all'omeopata per questo motivo, motivo per cui questo omeopata probabilmente, in una condizione in cui altre volte l'avrà curato, si è trovato probabilmente superficialmente a sottovalutare dei segnali, dei sintomi, anche perché non è stato visitato. E qui c'è il metodo, cioè fondamentalmente il medico deve fare una diagnosi. La diagnosi non può essere fatta telefonica, scusatemi, quindi di conseguenza condannare uno strumento, cioè l'omeopatia, perché un medico che la applica, probabilmente anche bene, ma anche in questo caso è sbagliato, sarebbe, secondo me, fare un salto indietro, non sentire il bisogno di un'evoluzione di questa società, che, come diciamo, sta dimostrando negli ultimi anni, trova una maggiore richiesta nel campo delle medicine alternative, motivo per cui oggi probabilmente il medico si sta facendo sfuggire un patrimonio di persone da poter curare. Queste persone si rivolgono sempre più a figure complementari, per esempio io che ho studi al nord, al nord ci sono molti naturopati che lavorano, le scuole di naturopatia stanno scendendo al sud, in Puglia ce ne sono già sei, quindi sono figure che andranno a sostituire la parte di medicina dell'ascolto, che praticamente non viene applicata più dalla nostra medicina, che ha dimenticato l'essere umano come priorità, e che probabilmente trascura dei particolari che fanno sì che la gente che sta evolvendo, perché oggi siamo nell'epoca di internet, siamo nell'epoca dell'autoinformazione, quindi la gente si informa e vuole chiarezza, e soprattutto sul piano della salute, e avete visto anche le reazioni dei genitori alla legge sui vaccini, che è stata fatta con criteri discutibili, perché io sono un papà omeopata che ha vaccinato i suoi figli, ma che non condivide proprio la maniera con cui è stata disposta questa legge, perché questa legge non ha tenuto presente delle sofferenze, non ha tenuto presente della gente che ha subito danni da vaccino, e quindi siccome la scienza avanza, non è attraverso le radiazioni dei medici che possiamo evolvere, dobbiamo evolvere attraverso una condivisione di percorsi in cui la scienza deve essere messa al centro e in cui chi sta intorno deve cercare di capire come applicare il principio logico della medicina, che è il primum non nuocere, e quindi questo è stato in qualche maniera bypassato da questa legge, perché fondamentalmente noi medici sappiamo che nell'ambito delle applicazioni sanitarie, in tali trattamenti obbligatori hanno un loro limite, quello dell'obbligatorietà che quindi riducono la libertà di scelta e la libertà di cura. Allo stesso tempo le problematiche connesse con il decreto legge che è stato applicato sono problematiche che non tengono presente del fatto che c'è un evoluzionismo nell'ambito delle applicazioni sul sistema immunitario dei vaccini, quindi bisogna ascoltare più parti e solo attraverso l'ascolto di più parti si potrà arrivare a una legge logica che può prevedere tranquillamente un obbligo vaccinale, ma che comunque deve essere fatta in relazione anche a una capacità di filtro rispetto a problematiche che sono chiaramente emerse anche in queste settimane, che comunque non sono finite, perché l'otto a Pesaro c'è una grossa manifestazione. Quindi bisogna in questo momento di crisi, hai detto bene tu prima quando hai fatto la domanda, ecco c'è una sorta di difficoltà di queste medicine ora che si è esposta attraverso appunto questo caso, invece secondo me è giusto che vengano fuori, perché da questo punto di vista noi possiamo trarre da questa situazione proprio la difficoltà del nostro sistema a condividere questi percorsi evolutivi e quindi poter fare filtro per riuscire a trovare anche delle regole e delle leggi che possano permettere a tutti di operare in tranquillità. Grazie a tutti!